Bagna qui a Giano, come ti chiami? Anastasia Anastasia, allora, da cosa sei vestita? Era spagnola ballerina di flamenco? Ma lo sai ballare il flamenco? Amico Senti, vuoi augurare buon carnevale a tutti i nostri telespettatori? Basta che dici buon carnevale a tutti, vai! Grazie a tutti Bene, grazie Qui abbiamo anche un piccolo principe Guardate, mamma, il suo primo carnevale? Sì Come si chiama? Vincenzo Vincenzo, da cosa è travestito, ovviamente? Da re Da re, neanche da principe Da re, da re Complimenti, complimenti